Grazie Presidente, onorevoli colleghe. La cancellazione dall'elenco dei reati ostativi ai benefici penitenziari di un lungo elenco di delitti contro la pubblica amministrazione da parte del Governo e della maggioranza è stato un autentico colpo di mano con cui si fa evidentemente finta di non sapere quanto quelle condotte che facciano male all'economia e alla società italiana, alla libera concorrenza, alle imprese sane e ai diritti dei cittadini onesti. Così come si finge di non vedere come la corruzione non sia solo il comportamento illecito di qualche furbetto con il malloppo in tasca, ma innanzitutto il mezzo con cui le grandi reti criminali prendono il controllo delle pubbliche amministrazioni e dei capitali pubblici, con cui indirizzano le scelte politiche e istituzionali. Con questa mossa state cancellando quasi del tutto l'effetto della deterrenza e l'incentivo a collaborare con la giustizia per corrotti e corruttori. Accedere ai benefici penitenziari significa, nella maggior parte dei casi, scontare in carcere poco o nulla del periodo previsto dalla pena. Non contenti, preparate il terreno per una delle prossime mosse e presentate un ODG che addirittura punta a cancellare anche la riforma della prescrizione. Prevediamo tempi oscuri per la giustizia in Italia. Proprio in questi giorni e davanti ai nostri occhi un caso che più clamoroso non si può, lo scandalo di corruzione che riguarda il Parlamento europeo, il cosiddetto Qatargate, che coinvolge poteri pubblici, istituzionali, nazionali e continentali, toccando addirittura tre diversi continenti. Ebbene, con il vostro corpo di mano, Governo Meloni e maggioranza, tra i reati per i quali avete deciso che devono tornare i benefici penitenziari anche in assenza di collaborazione, quale c'è? C'è anche quello previsto dall'articolo 322 bis del Codice Penale, la corruzione internazionale. La cronaca e la realtà dei fatti vi sono palesati davanti proprio mentre iniziate a smantellare l'impianto normativo che contrasta i reati dei colletti bianchi. Proprio per la natura pulviscolare che sta assumendo il fenomeno della corruzione va aggredito con misure repressive e preventive, soprattutto se si pensa al fatto che sta avendo caratteristiche sempre più liquide e internazionali. La cosiddetta internalizzazione del mercato ha infatti moltiplicato le occasioni di contatto con i pubblici ufficiali di Stati diversi da quelli in cui l'ente giuridico è costituito o ha la sua sede operativa. L'esame di questo decreto legge, sia al Senato che alla Camera, è stato costellato da arroganza e prepotenza da parte del Governo e della sua maggioranza, che hanno chiuso ogni varco al possibile confronto parlamentare finalizzato al perfezionamento del testo originale. Avete così dovuto riscrivere la norma antirev perché vi siete resi conto voi stessi che era una mostruosità dal punto di vista giuridico, politico e sociale. Per il resto, oltre ad aver respinto ogni nostra proposta migliorativa, avete pure portato a termine il blitz salvacorrotti. Con quest'ordine del giorno con cui chiediamo di mantenere nel numero dei reati ostativi la corruzione internazionale, insieme ad altri puntuali che sottopaniamo all'Aula, contribuiamo a prendere la direzione corretta del contrasto efficace al malaffare del nostro tempo, che si colloca innanzitutto al vertice della società, tra uffici eleganti e grandi flussi di capitale. Grazie, Presidente.